Foggia un passo importante verso la salvezza, mentre è ripresa la serie negativa della Roma in trasferta. Eppure aveva cominciato bene, ecco un bel cross di Boni per la testa di Prati. Poi era il Foggia a prendere il sopravvento. Qui sul centro di Ripa, Sali, il Brightener delle Puglie, alza sopra la trasmessa. La squadra di casa vuole vincere a tutti i costi e costringe la Roma nella sua area. Nel secondo tempo la Roma si scuote e, a tratti, sembra quella che all'Olimpico non perde una battuta. Sul corner di Bruno Conti, Di Bartolomei potrebbe segnare, ma Sali salva proprio sulla linea. Finale tutto del Foggia, una squadra molto grintosa, quella allenata da Puricelli. E al quarantunesimo segna Olivieri un gol da Moviola. Il Foggia adesso ha tre punti di vantaggio sulla terza interna.